Finalmente conosciamo l'avvocato Cascione. Ho bisogno di un legale. Quali sono le sue aspettative anche in gara come migliorattrice? Quali sono le sue aspettative da questo festival? Ma no, non si aspetta mai niente, perché se si aspetta si è già perso. Quindi per me va bene già essere qui. Ferdinando invece non è che puoi preparare qualche piccolo sketch per noi del Roma Web Awards? Tu che sei abituato a farlo. Ma se me lo dicevate un anno prima... Mi provvisa, ci vogliono 365 giorni. Fammi la stessa domanda delle aspettative, dai. Quali sono invece le tue aspettative? Ah, bella domanda. Le aspettative sono quella di vincere tutti e due i premi per i quali siamo... In nomination. In nomination, la speranza più delle aspettative. Altrimenti metteremo ferro e fuco il teatro. Non ho capito, tu vuoi vincere come miglior attrice? No, noi come sei. Ah, no, perché no. No, noi siamo in nomination come miglior attrice e un altro, miglior... Best Web Seeders Sketch. Troppe S per me, però va bene. Se vinciamo un premio ci fa piacere, se non lo vinciamo siamo contenti io stesso, perché vincerà uno più bravo di noi e quindi sarà tutto fatto per bene. Va bene, allora diciamo per i Roma Web Awards, viva l'avvocato Cascione. E viva l'avvocato Cascione. Ciao. Ciao.